Il Signore sia con voi e con il tuo spirito dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli, avete inteso che fu detto occhio per occhio, dente per dente, ma io vi dico di non opporvi al malvagio, anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgili anche l'altra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello, e se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanni due. Dà a chi ti chiede e a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle. Avete inteso che fu detto, amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico, ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Parola del Signore! Ritorniamo sul monte, dai! C'eravamo già la settimana scorsa, e l'altra prima, e l'altra prima. Sono ormai alcune domeniche che Gesù ci ha portato là, sull'alto del monte. Ma non per fare una passeggiata qualsiasi. La sua autorità, sottolineo, autorità, e sapete che autorità vuol dire cresci caro, dai ti faccio crescere io. Non è potere che domina. Ebbene la sua autorità è completamente in gioco, e ci sta dicendo il cammino per crescere. Aveva già cominciato domenica scorsa, dicendo, vi è stato detto, ma io vi dico, sono le conseguenze delle beatitudini. E quattro volte ha detto questo. Ne mancano altre due, eccole qua, quelle di stasera. Credo che alcune persone hanno cominciato, ho detto un po' volgarmente all'inizio della messa, a sentire i sassi che pungevano. E credo che qualche d'uno se ne sia andato. Magari può essere anche per noi, eh? Perché qua è in gioco la nostra proposta, anzi, la proposta cristiana e la nostra esperienza di fede cristiana. Basta che non siamo cristiani del così fan tutti. Quando sentiamo queste parole, credo che rimaniamo tutti, io che vi parlo, sono il primo. Scomodati. Vi è stato detto, ma io vi dico, c'è la violenza davanti a voi. Come vincere la violenza? Vi è stato detto, nella scrittura c'è una strada, anzi ce n'erano due strade. La prima era, ognuno faccia quello che vuole. La violenza non ha limiti. Barbara, la barbarie, ed è quella che vediamo tante volte ancora, eh? La Bibbia è iniziata con un modo barbaro, perché tutti facevano così. C'era un certo Lamech, se leggete la Bibbia lo trovate, che dice, ne ho ucciso uno perché mi ha fatto un livido, un altro, un ragazzo, perché mi ha pestato i piedi. Allora la Bibbia ha fatto un piccolo salto, un piccolo progresso. Basta questa barbarie, la legge del taglione, occhio per occhio, dente per dente. E diciamo, mamma mia, a questo punto, eppure, era un grande avanzo. Era proprio non fare di più di quello che ti è stato fatto. Ti hanno tagliato un piede, taglia un altro piede. Ti hanno tolto un occhio, togli un altro occhio. Perché bisogna rispondere alla violenza con la violenza. La Bibbia arriva a questo, Antico Testamento. Ma Gesù dice, è questa la strada? No, cari. Vi è stato detto, ma io vi dico, ecco l'autorità di cui vi parlavo prima. Volete crescere? Volete crescere in un modo differente? Dopo vedremo qual è la fonte di questa crescita. Vi è stato detto, ma io vi dico. E allora l'io vi dico si proprio declina con degli esempi concreti. Se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. Guardate che Gesù non è stupido. Vi ricordate? Quando l'hanno percosso, nel giorno quando è stato preso, Gesù è stato percosso sulla guancia, non mi risulta che ha posto l'altra guancia. Però ha risposto in un modo nuovo, sorprendente. Non vuol dire sì, stupido. Alla violenza non si risponde con la stupidità. Si risponde con la mansuetudine, quello sì. E si chiede ragione. Perché mi hai percosso? Questo ha chiesto Gesù. Perché mi hai percosso? È ingiusto quello che fai. Capite cosa vuol dire poggere l'altra guancia? Perché ne sono state dette di tutti i colori. Il cristiano non è stupido. Non paventa ingiustizia e porta avanti ingiustizia. L'ingiustizia si risponde con tutto quello che si ha, con tutta l'intelligenza che abbiamo, con tutta la sensibilità che abbiamo. Dobbiamo farlo. Però sorprendendo, non con altra violenza. Perché allora la catena diventa insolubile. Ti incatena dentro, ti rende schiavo. Il cristiano è libero. Il secondo esempio. Chi vuole portarti in tribunale per toglierti la tunica, tu lasciagli anche il mantello. Che vuol dire? Le trovi sempre, le persone impertinenti, le persone che sono prepotenti al massimo. Vuoi vincere la prepotenza? Sorprendili. Mamma mia, che applicazioni che mi verrebbero da fare qua. No? Ma delle volte dobbiamo veramente sorprendere gli altri. Perché se rispondiamo con altrettanta violenza, è stato lui che ha cominciato, e quindi ci nascondiamo dietro a queste cose, non ce la caviamo più. E continua, continua, continua. Guardate le storie dell'eredità che ci sono in giro. No? Mamma mia. Dai che ci sorprendiamo. Ma la seghi schei, sorprendelo. Forse è l'unico modo attraverso il quale comincia a capire che forse c'è qualche cosa di più importante dei soldi. Che gli affetti, le relazioni, sono forse più significative e necessarie. Vi è stato detto, ma io vi dico. E se uno ti costringerà a farne un miglio, tu fanne due con lui. No? Sorprendilo, sorprendilo. Vinci la violenza che ti è perpetrata, non con altrettanta violenza, ma con la mansitudine. Beati i miti, beati i misericordiosi, beati quelli che hanno capito il gusto, il senso della vita, delle relazioni. Sorprendetevi, non con la violenza. La violenza non sorprende più. La violenza uccide. E alla violenza si continua offrendo altrettanta violenza, a occhio più a occhio, dente per dente. Quanti eccessi anche al giorno di oggi, no? Quante faide, quanti terrorismi, e tutti quanti ce lo domandiamo, ma quando è che finirà questo? Vi è stato detto, l'ultima antitesi che Gesù propone, è ancora più radicale. Arriviamo proprio al nucleo della proposta di Gesù, è quella che credo che abbia fatto saltare in piedi tanti e andarsene mentre lo ascoltavano. Vi è stato detto, amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Pensate che nella Bibbia c'è scritto questo. non è proprio così chiaro, ma ci sono alcuni salmi che lo dicono, parlano dei nemici, addirittura, sapete che delle volte la religione arriva a questo, no? Dio è dalla tua parte e quindi chi non è dalla tua parte è tuo nemico, quindi Dio, tu sei dalla parte di Dio, ha dei nemici. Terribile. I salmi delle volte ci fanno pregare in sto modo qua. Sono prima di Gesù, anche loro, anche la Bibbia deve maturare. Allora, vi è stato detto, amerai il tuo prossimo o dirai il tuo nemico? Ma io vi dico, la forza di Gesù, sentitela, amate i vostri nemici, pregate per quelli che vi perseguitano. Ma lo capite? È la grandezza di Gesù questa. Sta minando proprio sotto, ha messo una bomba sotto il nemico. Non c'è il nemico. Toglilo. E poi ancora di più, il nemico creato in nome di Dio è orribile, un'aberrazione. E purtroppo noi lo facciamo. E le religioni, no? Addirittura lotte religiose. Nel nome di Dio ci si uccide. orribile, orribile. Non è di Gesù una roba del genere. Anche se fosse della religione. Non è di Gesù. Gesù è un uomo areligioso in questo senso. Capite? È la forza di Gesù che ci viene messa davanti questa sera. Amate i vostri nemici e pregate. Ma come si fa? Amare, pregare. Ma no, dai! Sei una persona che mi ha fatto del bene. Sì, anche, dai, ma... Sentite come va avanti. La motivazione. Affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Chi è il Padre? Chi sono i figli? Gente che si assomiglia hanno lo stesso sangue. Voi avete lo stesso sangue del Padre. E quindi, tra di voi, avete lo stesso sangue. Assomigliate a questo Padre. Non potete avere dei nemici. Mamma mia! È forte, sapete. E non sta dicendo solamente per quello che ti è simpatico, quello che ti è vicino, quello che è la tua cultura, quello che ha il tuo colore, quello che... La gente, gli uomini, tutti. Non c'è distinzione davanti a Dio. E poi, sentite la delicatezza. Chiudete gli occhi e provate a pensare. Egli, il Padre, fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni. Fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Io non sarei arrivato a tanto, eh? Io avrei fatto sorgere il sole, quindi la vita, io avrei fatto scendere la pioggia e quindi fecondato, ma solamente quelli che mi piacciono. Solamente quelli che se lo meritano. La cultura del merito ce l'abbiamo dentro, eh? Ma Dio non ce l'ha per fortuna. E pensate che non ci salva nemmeno per i nostri meriti. Ci salva per la sua bontà, perché Lui è Padre e fa sorgere il sole e scendere la pioggia. Sui buoni e anche sui cattivi. Non su quelli che se lo meritano. Anche quest'oggi. Per tutto il mondo è sorto il sole, è scesa la pioggia. Proprio perché siamo figli dello stesso Padre. Ma provate a pensare alle conseguenze di queste frasi qua. Guardate che non me le sono inventate io, sapete? Sono nel Vangelo, le ha dette Gesù. E quindi che conseguenze avrà questo qua? Provate a pensare a tutto il discorso degli immigrati, tutto quanto. C'è dentro qua, eh? Sì, sì, lo so, problemi grandissimi, però non dimentichiamoci la radice cristiana. Ve l'ho detto, tanti si saranno alzati sentendo queste parole là sul monte perché si sentivano i sassi che pungevano il sedere e se ne sono andati. Noi non ce ne andiamo, però ci lasciamo veramente toccare. Questa fa, è la differenza cristiana questa qua. O dovrebbe essere la differenza cristiana. Termino perché altrimenti porto io a troppo tempo. Sentite come termina. Bellissimo. Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei Cieli. Aveva detto la prima lettura, siate santi. Era già una cosa bella, eh? La santità. Ma Gesù non ha mai parlato di santi, mai. Ha parlato di perfezione che vuol dire siate completi in questo amore. L'altro evangelista, questo è Matteo, l'altro evangelista nel brano, diciamo, parallelo dice siate misericordiosi. Porta la perfezione alla perfezione che è la misericordia. Siate misericordiosi, abbiate un cuore di miseri, di poveri, un cuore come a Dio. Dai! Cosa aspettate? So che è difficile, so che ci mette in subbuglio, ma non dimentichiamoci, perché questa è la radice del nostro essere cristiani, eh? Siamo proprio alla qualità superiore che fa la differenza. Altrimenti, sì, sì, va bene, una bella religione, ma niente di più. Ma Gesù non vuole religione, vuole molto di più, vuole questa perfezione qua. Buon cammino a tutti.